Ragazzi, sono felicissimo, contentissimo di comunicarvi che lunedì 30 ottobre sarò corinando per la famosissima festa delle streghe e sarò io ad incoronare la migliore strega del 2017. Ragazzi, ma che figata! Allora, ricordatevi che Halloween è la forza delle emozioni e io di emozioni ci vivo, mi piace riceverle, ma vi piace anche moltissimo darle. Viva Halloween! Ci vediamo presto!